buongiorno a tutti forza forza il lunedì ci si allena per forza il lunedì sempre che mi diceva stelle stelle abilitate di che le stelle abilitate che vuole bettina buongiorno c'è sempre una nuova da imparare va bene sono qui che vi aspetto collegatevi per una lezione di total body buongiorno a tutti ben trovati nadia buongiorno vanessa buongiorno come state gianna buongiorno ditemi che fate tutti lezioni dai dai oggi è lunedì bisogna allenarsi oggi con me stasera con l'avane siamo qui con voi anche oggi siamo vicini al primo giugno dai resistiamo lore buongiorno chi pedala stasera no stasera c'è il roberto tutto bene annalisa buongiorno allora tappetino e due manubri per una lezione di total body con me con la 0 1 anna come stai siamo gialli e piove mi sembra giusto il sole spaccava le pietre fino a quando eravamo rossi ora mi sembra giusto così no si può uscire vabbè ma noi ce ne importa noi siamo qui con le nostre dirette a tenervi compagnia le dirette rimangono registrate come ormai sapete quindi le potete fare quando volete manu buongiorno vero anna l'analisa oggi era pronta che andare chissà dove invece piove vabbè ma noi ce l'abbiamo dentro il sole noi la 01 abbiamo il sole inside ma ci importa assai dei meteo dai andiamo io vi aspetto altri due minuti e poi parto con una lezione di total body dai dai ne voglio ancora un po ne voglio ancora un po si parte allora prima parte corpo libero senza nulla poi a portata di mano il tappeto e i manubri io direi di partire sono le 13 32 per l'esattezza quindi verbim accendi la musica andiamo dai paolo buongiorno andiamo io sono prontissima apri un po le gambe morbide apri le spalle lascia in conduzione l'ultima e cambia da dieci l'ultima occhio ai braccio Ancora, in quattro, tre, due, mi fermo, giù le braccia, giù le spalle. Ancora, quattro, tre, due, mi fermo, giù le spalle, giù le spalle, giù le spalle, giù le spalle, giù le spalle. in avanti uscillo l'ultima in luce tre oscure in angolo guarda prendo e tiro occhio chiudo stai giù tre stai qui sotto ancora tre diventano sette stai là basta ancora cinque sette sette andiamo aprile spalle piana lunga sette l'ultima cinque sette quattro cinque sette andiamo tiro giù le spalle oscillo ancora tiro oscillo di qua spalle in linea in angolo qua sulle spalle i gomi ti passano vicino al bacino tirando indietro da terra l'ultima Ancora Andiamo 3 Sono 7 Stai giù Piede alle gambe 5 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 13 16 16 16 17 17 17 18 17 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 25 27 28 32 32 33 33 32 32 33 33 33 33 33 34 34 37 37 38 38 39 39 39 41 41 42 42 42 43 44 45 46 45 47 47 41 è andato via tutto siamo nello squat continua se mi vedete siamo nello squat si era spento tutto vai continua a fare lo squat che dicano? vado a questo mio caso per l'audio che balli continua a fare lo squat ci siete con me? tutto anche a voi? io credo sia per la musica che me lo bloccheranno in Australia, in Giappone accidenta loro ma chi ce ne frega dai riproviamo ci siete? sono spento ho abbastato un po' la musica vediamo se sono un po' sordi non ci sentano ancora lo squat di là vai ci siete? no 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 cambiamo il cd mi basta riprovare provo a cambiare il cd proviamo a cambiare il cd a parte questo l'ho usato tantissime volte oggi li va di bloccarmelo mi dispiace provo a cambiare uno di quelli c'è là basta non sia latino quello c'è sopra il mobile guarda ci siete? portate pazienza che cosa c'è scritto su cui cd? vai vai dammi te lo vedi vai vabbè basta non me lo alzare appena mettiamo il video no no siamo sullo step se me lo basta allora a destra lo squat sempre destra fuori e dietro con me fuori e dietro step 6 fuori e dietro ancora vieni 1 2 3 solo step li va via tutti io basta li dico li prova mi spiaccendo no ti sto più prego ti faccio la prova andiamo step ce l'hai? 4 ginocchia solo step la sinistra andiamo 1 2 3 4 step ancora la sinistra 1 2 non capisco non capisco se sono solo io step 4 ginocchia solo step dai prova il telefono mamma prova il telefono allora fatemi capire se mi sia buia solo a me e voi continuate a vedermi e voi continuate a vedermi perché a me mi si abbuia tutto e mi dicono che la musica è stata bloccata in tot paesi a voi ditemi qualcosa io provo a uscire io provo a uscire anche a me io si vedo ma si blocca boh abbassa ancora un po' la musica riproviamo ora io la metto cioè non si sente più la musica io l'avevo visto a giro solo step allora andiamo avanti un via dagli via cerchi il tuo telefono e dimmi mamma dov'è? amore io ne so ci siete? io oggi sono disperata eh a me non mi riesce a stare in linea riproviamo solo step allora squat dietro poi aggiungo squat abduzione interno coscia con me seguimi andiamo uno due tre quattro cambio uno due tre quattro step e vai senza musica? voi la sentite? quattro ginocchi solo step a sinistra vieni uno due tre quattro cambio interno coscia a sinistra avanti step step quattro ginocchi quattro ginocchi step occhio eh aggiungo con me con me destra dietro interno coscia quattro tre tre due e ora occhio incrocio rimani caccio caccio chiudi stendo step touch dimmi se vado via alza un po' la musica perché così mi viene da piante appena appena sono in ritardo? due andiamo a sinistra interno coscia l'incrocio dopo lo scuolo incrocio calcio chiudo eh step vai più tanto ma ci siete? mandatemi qualche pollice eh non ci sto capendo mazza va bene l'esercizio è solo questo semplicissimo seguimi step ragazzi non so che fare che devo fare? ora ci sei eh lo so ma ogni due secondi mi va via la musica ora non è possibile levami sto cd leva la musica si fa senza leva la musica proviamo senza musica eh mi dispiace mi dispiace se mai voi a casa ve la mettete a bomba andiamo a destra uno dietro faccio una prova eh ho levato la wifi di casa e vado con i giga vediamo rimanda la musica appena 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 ci siete? che disastro ci sei dai che palla io non ce la faccio più riproviamo grazie della pazienza mettiamo la bassa bassa pronti allora squat dietro squat interno coscia squat incrocio due kick e chiudi con me a destra interno coscia destra avanti l'incrocio è dietro incrocio calcio su su chiudi tutto a sinistra dietro due tre l'interno coscia sinistra avanti due tre quattro dietro due tre due kick su su chiudi stendo e piego solo step ce l'hai? ce l'abbiamo fatta ho sudato sette camici sempre step di nuovo e uno due tre interno coscia stringi risucchia tutto dall'addome incrocio e dietro due calci su chiudo stendo andiamo quattro quattro tre due l'interno coscia chiudi due ci sei tre dietro l'incrocio sempre quattro due calci su 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 calcio dietro calcio a me mi si blocca siamo la wifi che senza non so più che vent'anni la musica ce l'ho bassissima io vado avanti eh lo ripeto l'ultima volta da capo fuori uno due tre interno coscia due tre cambio dietro due tre calcio uno due chiudi l'ultima a sinistra dietro due tre interno coscia quattro tre triscia due e tre calcio su chiudi su rimani qua i portaggi su e giù su e giù sui colpacci i talloni attivo i colpacci bambine grazie dai tira sui talloni tira sui talloni e stai giù è più veloce da qua attivo l'addome ancora quattro tre due e uno step non so cosa siete riusciti a fare mi dispiace non è colpa mia oggi va così allora io direi di prendere i manubri con me gambe unite manubri guarda avanti apri le spalle e occhio alza la destra e poi la sinistra alternando le gambe sali scendi sali scendi sali scendi sali giù sali sui gomiti giù le spalle ancora sali scendi sali scendi sali scendi continuate sali scendi sali scendi scendi sali sali ancora su giù su giù su gli ultimi due su hai l'ultima bravissimi lascia un manubrio un manubrio sempre sulla destra occhio a questo esercizio controlla le ginocchia siano sempre rivolte sulla punta dei tuoi piedi manubrio sulla mano destra scendi passando il manubrio sotto alle gambe poi su sempre la destra uno due dentro su sotto sotto dentro su su andiamo uno due tre su uno spalle in linea due tre andiamo uno due tre su uno due tre uno uno due dentro su passo sotto con le spalle in linea eh non fare la curva di fare questo eh sono in linea giù andiamo uno due tre su uno due tre uno due tre l'ultimo uno due tre ok sempre sempre un manubrio sulla destra e occhio gambe ribalicate apri le spalle sollevo scendo gamba destra torno carica scendi va in plank torno torno uno due vado e torno sempre di destra uno due vado e torno uno due vado torno carica torno vado torno via uno due tre quattro carica scendi vado di destra torno l'ultimo uno due vado torno su bravissimi riattacco con due manubri stavolta voglio la gamba destra dietro alza il tallone dietro bacino in retroversione spalle giù abbiamo i manubri qua angolo retto tra spalla gomito polso giù e su scendo salvo scendo 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 andiamo scendo 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 giù le spalle gomito in linea scendo salvo scendo salvo scendo scendo andiamo gli ultimi due l'ultimo stop recupera vedi se hai bisogno ci siete? io sono a pezzi mamma mia per gli esercizi per questa diretta per questa diretta che mi va via voi ci siete? tutto ok? tutto da capo l'avete bevuto? ok grazie 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 vi adoro allora tutto da capo giù le spalle vi raccomando di non creare tensioni qua eh sali alternando le gamba sinistra e la destra e sali e scendi sali e scendi fuori l'aria la riprendi su e giù sta in equilibrio alza più che puoi i gomiti e la gamba andiamo su 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 ancora quattro tre due uno stop stop il manubrio sulla sinistra il passaggio sotto con le spalle e i fianchi in linea ci sei? andiamo sotto sotto dentro su sempre la sinistra dietro insieme su sotto sotto dentro hop 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 dentro ancora scambia il manubrio sotto le gambe e sali sotto 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 sono qua su sotto sotto e andiamo sotto sotto dentro l'ultimo ok riprendi no sempre un manubrio scusami carica in alto poi scendi in plank questa volta vado e torno di sinistra via uno scendo sinistra torno scendo si blocca ancora e io mi arrendo e su mi sento anche ora vado torno su a me mi appare la scritta riprova io riprovo e sono già in diretta però spero ci siano anche loro ci siano anche i blocchi appena ripresi i pali vai su e perchè se ho arrivato la wifi e la musica è bassa andiamo scendi in plank carica stendi via giù torno l'ultimo giù torno stop prendi due manubri ce l'hai? la sinistra dietro apri le spalle manubri qua andiamo fuori l'aria torno scendo su scendo su vai occhio ai ginocchi avanti eh sempre indietro rispetto alla punta del tuo piede continua c'ho pieno di notifiche che la musica potrebbero appartenere a qualcun altro alla tua sorella appartendo ma perché? scusa vai giù su giù su giù gli ultimi due e uno stop ah ci siete ancora? o ve ne siete andati? allora tappetino e andiamo su su posizione supina facciamo un po' di addomi i manubri vicini ne usiamo solo uno ok? siamo qua attiva l'addomi sali e scendi sali e scendi sali e scendi ancora sali scendi sali scendi sali sali e attiva la spinta sugli estremi del manubrio sull'estremità del manubrio andiamo e scendi sali scendi sali e ora occhio rimani vado di qua e di là non giro solo le braccia è una torsione di qua e di là continua continua di qua e di là continua gli ultimi 4 3 ci siete? rilassatevi ora in diretta non si possono dire parolacci mi dicono dalla regia ma io le direvo l'intieri oggi eh e chi mi conosce sa che ne dico pochi però oggi ci stanno dai riproviamo da capo stessa cosa così se vado via sapete che cosa dovete fare andiamo di nuovo l'addome uguale sali e scendi arrotolando la schiena sali e scendi sali e scendi sali e scendi sali l'ultimo rimani su vai da una parte e da quell'altra schiena rotonda attivi gli obliqui l'addome gira da una parte all'altra continua ancora gli ultimi quattro tre due e uno stop rilassa sono sempre addominali però mi appoggio qua sui domini ci sei? occhio alla retroversione bella intensa non ti deve fermare la schiena le gambe me le allunghi giù e sali fuori l'aria e torna non ti deve fermare la schiena addome attivo spalle lontane dalle orecchie ora per chi vuole quando tiro su le gambe tiro su i gomiti occhio su fuori l'aria su ancora quattro tre due e uno l'ultimo stop recupera ah ci siamo? viene in plank con un manubrio che appoggi qua sulla schiena poi gomiti stendi le gambe e stai là il manubrio deve stare in equilibrio collo schiena bacino in linea e respira non stare in apnea ancora quattro tre due e uno stop recupera togli pure il manubrio e occhio e occhio è che vi voglio sempre in plank è stata la diretta più lunga della mia vita così non me l'ha successo va bene stacca i gomiti stacca di nuovo il plank e occhio alle gambe e vado e torno respira fuori l'aria quando porti la gamba su laterale ancora otto sette sei cinque quattro tre due uno e recupera rilassa sedere sui talloni allunga la schiena e le braccia allunga allunga poi mi prendi un manubrio e vieni in quadrupedia ci sei il manubrio sulla mano destra gamba destra mi giro un po' di sbieco ok? ho la gamba dietro su il braccio insieme il braccio fa questo la gamba sale in una festura volante e allunga dentro allunga dentro allunga dentro allunga dentro su dentro su dentro c'è ora di su dentro l'ultimo dentro stop ok lascia un attimo il manubrio mani un po' più fuori delle spalle a dai da qua scendi con il bacino in linea uno su due su tre io provo a spengere la musica voi continuate quattro su cinque su sei su sette sull'ultimo otto stop che fatica ora 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 ho levato la musica se mi si blocca un'altra volta veramente dai l'esercizio di sinistra braccio e gluteo siamo in quadrupedia sono non in linea ma un po' di sb l'esercizio di sinistra almeno si spegne lo stesso ora non c'è nemmeno più la musica boh andiamo da qua e sotto e allunga e sotto e allunga continuate sotto io ve lo faccio di qua che ho il braccio poco buono sotto allunga e sotto allunga e sotto su e dentro su ancora quattro su tre su due l'ultimo e uno stop lascia il manubrio siamo in appoggio sulla ginocchia allinea il bacino alla schiena attivo l'addome mani un po' più aperte delle tue spalle e scendo uno su due su tre su quattro ancora cinque sei sette e otto stop recupera sedere sui talloni allunga la schiena allunga le braccia tieni ancora un po' che giornata dai allunga bascula un po' con il bacino a destra e a sinistra mi dispiace ragazzi io l'ho provata tutte ho tenuto duro fino alla fine ma qui è stato veramente difficile oggi mi dispiace mi dispiace per voi che vi fate stasera un vanessa questo è da cancellare proprio va bene venite seduti vi voglio con le gambe l'addome e la schiena tutto attivo guardami le gambe sono leggermente aperte devi spingere la parte posteriore delle cosce bene a terra non lavorare così devi aprire il petto le spalle manubri ci sei? siamo qua spingi la parte posteriore delle gambe a terra le gambe attive e uno e due schiena lunga e quattro ancora cinque due sei spingi le mosce a terra ho i quadricini attivissimi gli ultimi otto sette schiena lunga sei cinque quattro tre due e uno rimani rimani non mollare uno schiena lunga due e attiva le gambe ancora quattro cinque sei sette otto gli ultimi quattro tre due gli ultimi vieni quattro tre due due e uno e stop lascia i manubri torna in quadrufedia vieni con me guardami i piedi dietro appoggiali sull'avampiede spingi i talloni giù uno alla porta spingo e cambio spingo e cambio spingi i talloni giù gli ultimi quattro tre due e uno e stop spingi tutti e due i talloni giù attiva la spinta delle mani a terra gambe tese e glutei verso l'alto ok lentamente sal le mani indietreggiano verso i tuoi piedi se ce la fai gambe tese se no le pieghi un po' e con le mani in terra cerchi di stendere allunga bravissimi piega le gambe lentamente snocciolando la colonna vertebrale sali una volta che siamo su un bel respiro prendo aria buttala fuori ancora uno prendo aria rimani su allungati prendi qualcosa in alto dove non arrivi allungati allungati più c'è il cuore e poi rilassa fuori l'aria la riprendo ancora uno fuori l'aria e stop siamo arrivati in fondo sono finita mi sembra di avere insegnato 85 ore questo stress della diretta non ce la posso più fare comunque speriamo di vederci in presenza il prima possibile io vi mando un grosso bacio mi scuso ancora per tutte queste interruzioni ma ripeto non ho capito cosa è successo con la wifi senza la wifi voi le ho provate tutte buona giornata a tutti vi ricordo gli appuntamenti con vanessa e con roberto a stasera con la 01 ciao a tutti